Battista Extra TV, con la partenza di Dionisi il Frosinone perde qualcosa in leadership e in termini realizzativi? Dionisi ha fatto quello che ha fatto qua a Frosinone, tutto il bene che la città gli ha avuto perché se l'ha meritato sul campo come tutte le cose, come è successo a tutti, tutte le persone che sono state tanto in un posto, c'è un inizio e c'è una fine per me faccio in bocca al lupo a Federico, ci siamo abbracciati e lo ringrazio per quello che ha dato nella mia gestione perché comunque ci ha dato, abbiamo avuto i nostri problemi ma finiti sempre con un abbraccio e una stretta di mano anche quando ci sono stati duri, perché ci sono stati, senza che nascondiamo e la cosa più bella è che quando è andato via l'ultimo giorno ci siamo abbracciati questo, gente di sport, di calcio fa queste cose, quando ci è andato a discutere si discute ma l'onestà delle due parti per me, poi come tutte le cose finiscono io sono andato via dalla Lazio quando giocavo dopo dieci anni, sono andato via dal Milan dopo altri dieci anni tutto a un inizio e tutto a una fine